Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, come avrete già capito dal titolo, oggi facciamo una bella full face con alcune delle novità low cost di questo periodo. Abbiamo prodotti di ELF, di Revolution, di Physicians Formula, di Rimmel, veramente tutto comunque con un budget molto ristretto diciamo. E vediamo come sono questi prodotti, se effettivamente saranno performanti e quindi vale la pena acquistarli, oppure se è meglio lasciarli sullo scaffale. Cominciamo prima di tutto dal primer e andiamo a utilizzare questo qui di ELF, che è il Liquid Poreless Putty Primer. Io utilizzavo in passato la versione in pot, quindi la versione in crema e adesso hanno fatto questa più liquida e nel tubetto, quindi un pochino più semplice ad utilizzare, perché comunque non dovete più infilare le dita nel barattolo, tirare fuori il prodotto, ma appunto in questo modo resta tutto anche un po' più igienico. Vado a tamponarlo e a massaggiarlo all'interno dei pori, questo dovrebbe essere un primer che va appunto a minimizzarli. Io l'ho provato già un paio di volte, vi devo dire che su di me non ha fatto moltissimo. Sinceramente preferisco quello di Catrice con il pack bianco e rosa, che si chiama Pore Factor, qualcosa del genere, è sempre Pore da qualche parte sul pack. Non lo so, qualcosina fa, però sinceramente ho preferito o la versione in pot, appunto quella precedente, oppure quello di Catrice direttamente, che è molto più facile e veloce ad utilizzare e se non erro cosa anche meno. Come fondotinta ora andiamo a provare un'assoluta novità, che è di Revolution ed è il Skin Silk Luminous Serum Foundation. Io ho preso la colorazione F6, sperando che vada bene per me. Nei primi fondotinta di Revolution andava benissimo per me, poi a volte per qualche motivo la cambiano, non ho capito per quale motivo. Sì, forse addirittura è un pochino oscuro, però vado a stenderlo con la spugnetta e vediamo un po' di che cosa si tratta. In teoria dal nome dovrebbe essere un fondotinta siero, quindi molto leggero, molto liquido, cosa che mi sembra effettivamente corretta. Resumo che abbia una coprenza leggera barra media. Adesso io qui nella descrizione ti ho scritto soltanto fondotinta liquido, però dal nome in teoria dovrebbe avere anche un finish estremamente luminoso. Per il momento mi sembra una coprenza leggera barra media, non arriva a essere full, ha un finish comunque luminoso. Pensavo molto più di così in realtà dal nome. Leggerissimo sulla pelle, non si percepisce quasi nulla. Io sono abituata ad avere fondotinta molto pesanti, quindi calcolate questo. Però appunto mi sembra che non si senta quasi nulla sul viso. Come effetto non mi sembra per niente male, sicuramente però adatto un po' di più a chi ha una pelle secca, perché appunto ha questo finish luminoso che sulla mia pelle mista non reggerà proprio benissimo. Adesso bisogna vedere se andrà a segnare, però dalla consistenza secondo me potrebbe andare bene anche perché ha una pelle un po' più matura. Perché comunque è molto leggero, all'interno ha anche in teoria acido ialuronico, quindi dovrebbe andare a idratare anche la pelle e a distendere un po' le linee sottili. Quindi appunto potrebbe essere l'ideale se cercate un fondotinta low cost per pelle secca o per pelle matura. Ora come correttore non ho niente di nuovo low cost, quindi vado velocemente con Kylie Cosmetics nella colorazione 2.5 N. E vado anche a coprire le zone dove ho più discromia. Anche come cipre non ne avevo una nuova, quindi ho utilizzato la solita Stay Matte di Rimmel, io utilizzo la 001 e da come conciata potete capire da soli che è una cipre veramente fantastica. È proprio bella levigante, sottile, opacizzante, è proprio una delle migliori cipre low cost a mio parere. Comunque questo qui è il nostro fondotinta una volta fissato. Come vi dicevo la coprenza leggera barra media, essendo luminoso non va tantissimo a levigare i pori, quindi dipende un po' dalla tipologia di pelle che avete. Adesso come bronzer e blush avevo visto delle richieste per provare quelli di Physicians Formula. Abbiamo Bread and Butter come bronzer e poi abbiamo Strawberry Gem, che è questo qui con tutte le fragoline sopra, che è carinissimo. Quindi iniziamo con il bronzer. Se mi seguite da tantissimo tempo, ma veramente da tanto, probabilmente magari vi ricorderete il Butter Bronzer di Physicians Formula, che era la mia ossessione qualche anno fa ormai, sì. Perché sulla pelle era molto morbido. Oh cacchio. Attenzione quando andate a prelevare il prodotto perché fa tantissimi fallout in cialda, ma proprio tanti, è delicatissimo. Dicevo, lo utilizzavo tantissimo proprio perché era bello morbido sul viso, è setoso, pigmentato il giusto, quindi facile da sfumare, facile da applicare e si riusciva a far funzionare molto bene. Questo è decisamente molto più delicato. Già toccandolo veramente si sfalda proprio la cialda. Non so se riusciate a vedere la polverina. Cioè proprio... È delicatissimo, bisogna davvero farci attenzione. Però anche qui come pigmentazione non mi sembra eccessiva. È profumato, cioè mentre lo applico sento comunque un profumo. È un profumo comunque abbastanza dolce, che non riesco a capire bene di che cosa sappia. Insomma sappiate che è abbastanza profumato, quindi io che ho la pelle sensibile, probabilmente dovrò andare a struccarmi a breve. Ah, se vi doveste interessare, molti di questi prodotti me li ha gentilmente mandati nel sito di Maki Beauty, quindi li trovate sul loro sito. Tanto poi vi lascerò tutti i link qui sotto in info box. E se volete, cioè se vi doveste servire, ho anche un codice sconto valido sul sito che vi fa il 10%. Quindi ve lo lascio qui sullo schermo e poi anche sotto in info box. Comunque questo qui è il nostro bronzer una volta applicato. Come vi dicevo, la pigmentazione secondo me non è elevatissima. È un po' il giusto per andare a dare un po' di colore, un po' di vita, senza però essere eccessivo. La colorazione è abbastanza rossiccia, penso riusciate a vedere e direi che è media, cioè non è troppo chiara. Se avete un incarnato più chiaro del mio, secondo me potrebbe essere troppo scura. Per me diciamo che è quasi tendente a essere quasi scura. Adesso, come vi dicevo, andiamo a provare anche il blush che è Strawberry Gem. Il pack è carinissimo. E all'interno ho anche dei piccoli glitter, questa cosa un pochino devo dire che mi spavetta. Però proviamo ad andare ad applicarlo così vediamo anche se la cialda... Sì, anche qui abbiamo lo stesso problema, nel senso che, vedete, è talmente delicato che si sfalda proprio e tira su tantissimo prodotto. E purtroppo le fragoline vengono via già solo alla prima passata, quindi... Peccato. C'è un sacco di spreco, cioè tanto prodotto finisce poi sul tavolo, quindi veramente da farci tanta attenzione. Adesso vado con questo pennello a stenderlo. E questo profuma di fragole, che è una cosa molto carina se non avete la pelle sensibile come me. Il colore, appunto, come dice anche il nome, è un po' un rosa fragoloso, abbastanza delicato. Non è troppo... anche qui non è eccessivamente pigmentato. Si può lavorare molto bene, si può volendo stratificare, è leggero sulla pelle. I microglitter, fortunatamente, sono tutti caduti all'esterno del pack, quindi non si sono poi attaccati al viso. Vi dico, con questo fondotinta sotto, che ha una coprenza comunque leggera, si vedono comunque sotto le discromie, quindi non vedo la base bella uniforme. La base in questo momento non mi sta piacendo tantissimo, ecco. Però neanche da dire, ok, orribile, devo cancellare di fare tutto da capo. Per quanto riguarda questi due prodotti viso di Physicians Formula, non mi sembrano male, nel senso che comunque performano abbastanza bene, i colori sono carini. Però, appunto, difficoltà nell'utilizzo, perché appena li toccate, ma anche sfiorandoli, fanno un sacco di polvere dappertutto e il prodotto finisce ovunque. Cioè, vedete quanto prodotto che è stato sprecato qua. E ce n'è altro sul tavolo. Le colorazioni, ok, ci siamo, ma ci sono anche delle profumazioni, quindi anche lì, se avete pelle sensibile, secondo me no. Ho decisamente preferito il Butter Bronzer, appunto, di Physicians Formula, che era setuoso e morbido, ma non era così tanto polveroso, ecco. Quindi per questo primo utilizzo, per questa prima impressione, al momento non ve li consiglierei. Ora, sempre come prodotto viso, torniamo su Makeup Revolution, abbiamo questo meraviglioso illuminante, che si chiama Highlighter Reloaded, nella colorazione Just My Type. Questo qui, che sembra letteralmente stupendo, cioè è bellissimo anche il pack, come riflette la luce, il colore anche mi sembra molto carino, quindi proviamo ad andare ad applicarlo. Adesso vado a prenderne un po' con un pennellino, rimuovo l'eccesso. Questo, secondo me sarà intensissimo, beh, molto intenso, molto bello. Micro glitter, zero, letteralmente, zero di zero. E si va a segnare un pochino la texture della pelle, ma per essere così intenso, neanche tanto, eh. Adesso andiamo a disegnare le sopracciglia con la nuovissima Build Brow di Maybelline. Questa qui io l'ho provata due volte, per adesso, e ho la colorazione 160 Deep Brown. Come funziona questa penna? Da un lato, appunto, abbiamo la mina della penna, che è sottilissima ed è super ultra precisa, mentre dall'altra parte abbiamo il gel per andare a fissare. Abbiamo step 1, quindi disegnare i peletti, step 2, andare a fissarli. Vado con la mia penna e vi faccio vedere anche quanto effettivamente i peletti escono realistici e super sottili. Penso che dalla telecamera, comunque, si riescano a vedere abbastanza bene. Io nel dubbio vi faccio vedere anche da questo lato. Vedete che li fa proprio sottilissimi? È veramente precisissima. Ho notato soltanto un difetto che sta nella colorazione, perché, appunto, come vi dicevo, io ho Deep Brown, ma adesso vi farò vedere, specialmente da questa parte di qui, tra qualche secondo, che diventa viola. Quindi, secondo me, l'unico problema di questo prodotto è la colorazione. Infatti, devo provarne altre per vedere se è un problema soltanto di Deep Brown o se anche gli altri colori fanno così, quindi cambiano la tonalità mano a mano che si asciugano. Quindi, per questo motivo, se state cercando una buona penna per le sopracciglia, io assolutamente vi raccomando quella di NYX, che è la Lift & Snatch. La utilizzo da tre anni. Da quando è uscita? Quindi adesso ho perso, sinceramente, ho perso il conto. Però l'ho usata per tanti anni, non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Io utilizzo Espresso. La mina è molto simile a questa, quindi è comunque bella sottile, i disini aperti realistici, e si scarica veramente dopo tantissimi utilizzi. Cioè, io una magari la usavo per tre, quattro mesi, cioè, usandola comunque tutti i giorni o quasi tutti i giorni, e quindi ci mette un bel po' a scaricarsi. Quindi, per il momento, appunto, avendo provato questa solo qualche volta, e avendo riscontrato questo problema con il colore, vi direi, se ne state cercando una, prendete quella di NYX. Vedete? Diventa un po' calda, a volte viola. Cioè, l'altro giorno che l'ho provata era diventata proprio viola, vi giuro. Poi anche alla luce del sole si nota. Quindi, sinceramente, per il momento, finché non provo un'altra colorazione, vi dico di prendere quella di NYX. Adesso vado dall'altra parte con il gel, e vado semplicemente a pettinare. E per quanto riguarda questo gel qui, secondo me è un po' come, cioè, è un po' più debole. Il 24 ore per lo setter di Benefit, se avete presente. Non è uno di quei gel, tipo Anastasia Beverly Hills, Brow Freeze, che ve le incolla. Vi serve soltanto a pettinarle e fissarle, più o meno. Però, notato che su di me non ha, cioè, non regge proprio benissimo, ecco. E io non ho un pelo particolarmente difficile. Cioè, ho un pelo che comunque, quando lo metti a posto, rimane tendenzialmente lì. Allora, non ho nessun ombretto da provare con voi, anche perché vorrei andare a registrare un altro video con le novità di Oda Beauty, che avrete già visto sicuramente. Quindi, andiamo direttamente con il mascara, e andiamo a utilizzare il nuovo mascara di Makeup Revolution. che è il Wispify False Lush. Il 91% delle persone sono d'accordo sul fatto che le ciglia sembrassero moltiplicate. Dovrebbe essere un mascara con effetto ciglia finte. Le mie aspettative sono estremamente alte. Un po' simile, forse, a Lush Paradise di L'Oreal, credo. Però no, perché è un po' spirale. Quindi neanche Too Faced, in realtà. Perché dal pack sembrava proprio quello di Too Faced, invece dallo scovolino non sembrerebbe. Adesso l'unica cosa da fare è procedere con l'applicazione. Ora ho cercato di applicarlo nel miglior modo possibile. Da questo lato l'ho stampato letteralmente su tutta la palpebra. Lo scovolino comunque è un po' grande, un po' cicciotto, quindi se non avete delle ciglia proprio lunghissime, insomma, è un po' difficile da utilizzare. Ho notato che comunque le ha annerite abbastanza bene, però da questa parte alcune le ha incollate e ha cercato un po' di incurvarle, però neanche così tanto. E io preferisco di solito quando lo scovolino è un po' più piccolo, che va a separare, allungare, specialmente allungare e annerire. Questo potrebbe essere un buon mascara se avete già delle belle ciglia lunghe e volete un po' dargli quell'effetto riempito, incurvato. Però allo stesso tempo, non lo so, su di me non ha fatto un effetto bellissimo. Come formula comunque a primo impatto non è né troppo secca né troppo bagnata, cioè non è una di quelle formulazioni che lascia le ciglia bagnatissime al primo utilizzo e che quindi bisogna far asciugare un po'. È già abbastanza stabilizzato, mi viene da dire, cioè mi sembra che sia una via di mezzo fra il non troppo bagnato e il non troppo secco, quindi temo che seccandosi di più l'effetto non possa migliorare tantissimo, ecco. Ora direi di passare alle labbra, in realtà potrei utilizzare anche Rimmel Cappuccino come matita, però la sto utilizzando un sacco, quindi oggi come matita labbra andiamo a utilizzare Kiko Smart Fusion Lip Pencil Colore 36, che è questo marroncino freddo, che è dato super virale perché è un colore che tendenzialmente è difficile da trovare low cost, è quel marroncino che si usa tantissimo per fare tutte le varie lip combo negli ultimi anni, è un colore che ha magari Make Up For Ever, Mario, Huda Beauty, quindi con un prezzo decisamente elevato, e appunto sia Rimmel ha fatto la colorazione Cappuccino, Kiko invece ha in gamma questa numero 36 appunto. Quindi vado ad utilizzare questa per disegnare il contorno labbra. E vado leggermente con le dito a sfumare il centro. E poi invece un prodotto che sto usando tantissimo ultimamente, è il Lasting Mega Matte di Rimmel sempre, nella colorazione 110 blush, che è esattamente qui, che è questo, che è un rosa chiarissimo molto bello, ma mi hanno mandato settimana scorsa il colore 709 Strapless, che è un pochino più scuro e secondo me potrebbe essere molto carino, quindi proviamolo. Beh, è sempre rosato. Scusate, devo fare un esperimento. Sì, blush è leggermente più chiaro e più freddo, vedete, quello sopra è blush, quello sotto è strapless, quindi vabbè, andiamo con strapless. Colore assolutamente stupendo. Mamma quanto è bello. È leggermente più scuro di blush, ma è bellissimo anche lui. Questa formula mi sto piacendo un sacco, perché sono belli opachi, ma non troppo, non seccano eccessivamente, e sotto di me hanno un'ottima tenuta, quindi li sto veramente usando tantissimo, specialmente anche con sopra il gloss, per fare i vari lip combo. Sono stupendi. Uh, abbiamo anche un gloss sempre di Rimmel, nella collezione Madame Web, che è uscita per il film, ed è nella colorazione 130, Pur Glossy Cut. A sto punto siamo in ballo. Ah, è un po' freddino. Sì, è un po' freddo, molto carino, però secondo me era più bello prima. Vedete che da questa parte il sopracciglio sta diventando rossiccio? Era proprio quello che intendevo prima. Comunque, questo qui è il nostro look terminato, molto semplice, un po' stile clean girl, quindi solo mascara, queste labbra glossate, eccetera. Però abbiamo provato alcune delle novità low cost, appunto, di questo periodo, che secondo me erano abbastanza interessanti. Ovviamente, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il prodotto che vi ha colpito di più, c'è qualcosa che vi è piaciuto particolarmente, cosa avete promosso, cosa avete bocciato, come prima impressione, chiaramente. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto, veramente grazie mille. Spero che questo video vi sia piaciuto, e spero di vedervi anche nel prossimo. Ciao! 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 Ciao!